sono 300 euro, a me subito, a Pinco Pallo SRL o al beer team, il timbro te lo facciamo ma vi sento onesta, però, per la vita, ah lei è la bici, quant'è la testa? 6 euro, mi ha fatto la doccia, guarda, noi non abbiamo giocato, non abbiamo fatto la doccia grazie